5. Leadership 5.1 Leadership ed impegno L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione ambientale, tenendo conto dell'efficacia del sistema di gestione ambientale, assicurando che siano stabiliti la politica e gli obiettivi ambientali e che essi siano compatibili con gli indirizzi strategici e il contesto dell'organizzazione, assicurando l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione ambientale nei processi di business dell'organizzazione, assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione ambientale, comunicando l'importanza di una gestione ambientale efficace e della conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale, assicurando che il sistema di gestione ambientale consegua gli esiti attesi, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione ambientale, promuovendo il miglioramento continuo, fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali, per dimostrare la loro leadership come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità. politica ambientale 5.2 L'alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica ambientale che, all'interno del campo di applicazione definito dal proprio sistema di gestione ambientale, sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione, compresi la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi, b. costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali, comprenda un impegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento e gli altri impegni specifici pertinenti al contesto dell'organizzazione. Nota. Gli impegni specifici per proteggere l'ambiente possono prendere l'utilizzo di risorse sostenibili, la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Comprenda un impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, comprenda un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le prestazioni ambientali. La politica ambientale deve essere mantenuta come informazione documentata, comunicata all'interno dell'organizzazione, disponibile alle parti interessanti. 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate e comunicate all'interno dell'organizzazione. L'alta direzione deve assegnare le responsabilità e autorità per assicurare che il sistema di gestione ambientale sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale, riferire all'alta direzione sulle presenti sistemi di gestione ambientale, compresa la prestazione ambientale. Grazie. 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 Grazie a tutti.